A poche ore dalla prima giornata di campionato abbiamo seguito anche le vicende della Mario Tana Tessa, formazione neopromossa, come abbiamo detto anche con il presidente del Piazzano Camillo Giangiordano, si è chiusa la stagione con Piazzano Mario Tana Tessa e si riapre con Piazzano Mario Tana Tessa, stesso campo, stesso posto, ovviamente per il presidente della Mario Tano Boboianni spera che l'epilogo sia diverso. Sì, ovviamente, dopo una stagione comunque faticosa come quella dell'anno scorso, arrivare poi ad essere ripescati, non è come arrivare sul campo in queste categorie, però anche la gente del posto, del capoluogo ci ha spinto a fare questa domanda, quindi alla fine l'abbiamo inoltrata, avevamo il punteggio decisamente alto per sperare nel ripescaggio e così è stato. Devo dire che nel corso dell'estate è cambiata la denominazione societaria, adesso è a testa Mario Tana, non più Mario Tana a testa, però sono dettagli. E se è cambiata la denominazione si spera che qualche imprenditore abbia dato il suo contributo, ma forse no, vero? Beh, insomma, siamo sempre a braccia aperte, aspettiamo sempre il prossimo, chi vuole entrare in estate si è parlato, anche con, si sono fatti degli incontri qui con la popolazione, qualcosa si è mosso, ovviamente, il budget comunque rimane anche per scelta quello minimo, cioè praticamente i soldi dell'iscrizione, nient'altro. Come vi siete mossi, diciamo, per il mercato, il mercato, diciamo, a costo zero? Sì, il mercato a costo zero è un mercato decisamente difficile da svolgere, però nonostante tutto siamo riusciti a fare, a mettere su una rosa, diciamo, all'altezza della situazione, poi ovviamente il campo è sovrano. Abbiamo fatto diversi movimenti, sia in entrata che in uscita, l'unica pecca rimane magari la punta centrale che tanto desiderava un po' tutti quanti, il cui, insomma, si era fatto, praticamente era già fatto il passaggio con noi, e poi questo ragazzo che conosco anche personalmente ha avuto un ripensamento all'ultimo secondo, ci ha lasciato un po' spiazzati, purtroppo succede. Ma quali sono in realtà i vostri obiettivi di questa stagione? Sicuramente salvezza a tutti i costi, manteniamo questa categoria con i denti e con tutto quello che può essere utile. Speriamo in una salvezza tranquilla, però potrebbe arrivare anche all'ultima giornata che va benissimo. E per i piani alti chi vedi tra le possibili protagoniste? Sicuramente, insomma, Scerni ha fatto una bella squadra, anche la Casolana, c'è il Treville, appena il processo, c'è il Montalfano che comunque rimane una squadra abbastanza competitiva. Metterei su anche i nostri cugini del Piazzano che hanno fatto una squadra niente male, sinceramente.